Per la prima volta nella sua storia la Basilica del Santo terrà aperte le porte anche di notte. Il Santo aderisce infatti alla 24 ore per il Signore indetta da Papa Francesco. Dalle 15 di venerdì 9 marzo fino alle 15 di sabato 10 marzo la Basilica resterà aperta continuativamente anche di notte ed è la prima volta in tutta la sua storia che il Santuario Antoniano tiene i portoni sempre aperti. Si tratta di un evento straordinario non solo perché per la prima volta nella sua storia la Basilica sarà aperta per 24 ore ma anche e soprattutto per la presenza di sacerdoti che può essere un'occasione per avvicinarsi al sacramento della confessione.